Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi, perché in generale, perché è stata una bella giornata di campionato. Allora, io speravo che la Juventus battesse la Roma, invece no, la Roma ha fatto una grande partita e adesso non mi chiamano più. Tengam Fonseca! Sì, no, sono davvero molto infuriato perché mi aspettavo una partita entusiasmante, così non è stato. Sono andato negli spogliatoi, mi sono arrabbiato tantissimo con i giocatori, si vede ancora che sono ancora molto elettrizzato, sono negativo perché ne hanno dette quattro con tanta cattiveria. Mica, 6-0 non me l'aspettavo, non me l'aspettavo perché è stata una bella partita, sono contento, sono contento. Mica, ha segnato pure a Lozano che tutta la settimana ci ha tirato tanti cacci in tuo culo che ci ha detto, mica, se non inizi a segnare finisce male. Finisce male, il cazzo è entrato in campo che sembrava una gazzella, ha fatto pure gol, vuol dire che i giocatori mi ascoltano, soprattutto quando prende la spranga, vuol dire che c'è una squadra unita, c'è una squadra unita nella paura. Amala, pazza intera Amala, è una storia infinita che dura una vita, come la partita con la Fiorentina, è durata una vita, non lo passava più, ma abbiamo grandissimi giocatori e l'abbiamo recuperata e diciamo che sono contento. Scusate, è importantissima notizia di Calciomercato perché Guglielmo Trota e Giuseppe Salmone sono stati acquistati dall'Acqua e Dolci. Ma al tempo stesso sono anche molto felice, credo si veda anche dalla mia faccia, sono molto soddisfatto per comunque non aver perso una partita che si era messa male, siamo riusciti a recuperare. Siamo contenti per la vittoria, ma non possiamo essere soddisfatti per il fatto di aver fatto solamente quattro gol, che è un dato un po' deludente perché ci abbassa notevolmente la media gol, che deve essere molto più alta. Spiazze, spiazze per i Cagliari perché è un'ottima squadra, lo sapevamo, ha giocato contro di noi e purtroppo abbiamo dovuto batterli senza pietà. Spiazze, spiazze per Lazzari che giocava, che non stava tanto bene, me l'aveva detto, ma io ho detto Lazzari alzati, cammina, lui mi ha dato ascolto, ha anche segnato. Eh, quindi quando ci sono queste cose vuol dire che la squadra poi alla fine sta bene. Sì, sì, no, 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 sono molto contento della vittoria perché mi ricordava le vittorie della mia pazza Inter quando recuperavamo le partite con Recoba, col Zamorano, con il Callon. Ah, no, no, un bel tuffo nel passato, mi ha fatto molto piacere, devo dire. Scusate, notizia importantissima di Calciomercato perché salta la trattativa tra Onnesi e Illicata, durissime le parole della gente del calciatore che dice qua non lo vuole nessuno, manco Illicata. Visto un toro, tutto sommato, proporre un buon gioco, grazie anche al gallo da combattimento che abbiamo là davanti, ma tranquillizzo i tifosi perché già oggi annuncieremo un nuovo acquisto, serviva qualcuno fare legna a centrocampo e infatti verrà un falegname, mio caro amico che conosco da anni, grandissimo giocatore, grandissima qualità perché sarà lui a pagarsi lo stipendio, quindi non dobbiamo cacciare una lira. Sono molto arrabbiato perché potevamo battere la Juve, sono arrabbiato anche con Zecchi perché ha fatto una grande partita, ma davanti alla porta lui probabilmente pensava di essere ancora la Juve. È stata un'altra bella giornata di merda, abbiamo perso pure in casa col Benevento, ora non ci resta che fare una cosa, andare in ritiro a Lourdes. Per cui le sono le dinamiche del calcio giocato e del campionato, ieri non ho visto niente perché ero a fare lo Stuart per un evento di automobili d'epoca perché chiaramente da tanto tempo non alleno e devo comunque impiegare il tempo e fare qualcos'altro, quindi sto cercando, sto guardando anche altrove, sto ampliando quelli che poi possono essere i miei interessi per nuovi lavori. Ma devo dire che una svolta decisiva nella partita sia stata quella di poter inserire Vidalla e Naingollanna e grande merito, va al governo perché ha chiuso i locali, perché se i locali erano aperti, quelli col cazzo che erano in campo. Il Sorrento riabbraccia dopo due anni Ciro Orbelli che torna dal prestito nella squadra dove l'ha lanciato, parola al miele del presidente che dice torna a Sorrento. È stata una giornata con partite rocamboleschi, con cambi di risultato, con tantissimi gol. Mi ricordava un po' quando con i miei amici andavo a spaccarmi a merda e cambiavamo tantissimi locali in una serata, anche 5, 6, 7, nel giro di 3-4 ore.